Ciao a tutti bella raga, oggi vi faremo vedere un nuovo video dei nostri amici guardate, sono rarissimi, Jackie, così, ce n'è anche uno là, uno qui, lì, lo vedete? ecco, stiamo sempre nello stesso punto dove c'è il mulino andate a rivedere quel video se non l'avete ancora visto ora vi dico il titolo il mulino nella foresta guardate, è lì poi, niente se vi è piaciuto questo video ah, e poi, guardate quello lì e poi riescono anche a nuotare perché perché muovono la coda con le zampe di dietro e fanno così perché prima mio papà, quello che sta filmando, ne ha preso uno e lo ha messo lì se lo volete vedere, scrivetelo nei commenti poi ve lo rifacciamo rivedere un'altra volta se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like iscrivetevi al canale e ciao eh, anche di là dove? Oh! Grande papà! Grande! Aspetta, mettiamolo qua. E' bello eh! Posso accarecciarlo? Sì! Non è che porta a mano? No, non porta niente amore. Ma la mano? Come è vicido? Eh no, no, no. Sarà una famigliola. Aspetta, aspetta, togiti che si vede sotto la scatola, non vorrei... schiacciare. Esatto. ... ... ... ... ... ... E ciao a tutti bella raga! Oggi vi faremo vedere un nuovo video. Siamo qui al mulino di Sareola. Poi la abbiamo trovato... Sapete quei jacki neri e gialli? Li abbiamo trovati, i tre sono rarissi. Ora proviamo ad andare dentro. Questo qua è il mulino. Qua c'è la porta. Non ci si può entrare, eh? Che è pericolante, vedi? Bello qua, eh? Sì. Fate attenti che non si va giù, eh? Sì. Eccolo qui. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ciao! Ciao!